Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Il traffico è rallentato in A1, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna. Un veicolo è fermo tra Incisa Reggello e Valdarno, ancora in A1 verso la capitale e in direzione Roma, tra Monte San Savino e Valdichiana, anche qui c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla Firenze e Pisa Livorno, tra Ponte del Rest e Montopoli-Valdarno. La presenza di pedoni è segnalata in direzione di Firenze. Ricordo in A1, lavori di pavimentazione, domani notte 23 ottobre, orario 22.6, chiusa l'uscita di Firenze Sud, provenendo da entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di uscire a Firenze in pruneta. Non ci sono altri aggiornamenti grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.